e salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di gameplay di crash twin sanity ok qua c'è cortex che ci dice vieni vieni crash vieni seguimi sì certo un attimo però prima devo vediamo se c'è la gemma lì sopra dov'è perché non la vede ah sì c'è c'è ok prendiamo bene la mira ok prima bocca distrutta proviamo così ok è stato un bug un attimo perché si vedeva la foglia ok ok preciso preciso ok prendiamo questa gemma la nostra prima gemma tanto è solo un gameplay quindi volevo farvi vedere quanto è bello questo gioco mamma mia di crash è troppo bello vediamo se riesco a fare la roba delle galline qua che è abbastanza disgraziata sta roba allora vai contro il tnt andate ok tu anche dai dai venite vai vai andate andate bravi bravi ok tu devi andare però anche vai 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 ok voi anche veloci 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 ok adesso c'è la strada libera chi è quella scimmia non la ricordavo vai 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 no non di là vabbè e ste scimmie qua poverine crash che ammazza le scimmie ok andiamo a prendere delle vite extra aspettiamo un attimo che si fa qua ok no non cadere mamma mia dirty cough facciamo questa allora dai ehi tu cosa vuoi eh volevi eh ok andiamo nell'altra isola ok andiamo di qua un attimo no ok mamma mia gemma ok seconda gemma seconda gemma del gioco ok si dai rialzati però veloce ok ok vai così vai così nooo ho perso una vita va vabbè ok dai andiamo dove era cortex va dov'è ok di qua di qua intanto le gemme le ho preso ormai quelle lì qua adesso è abbastanza difficile cioè vedete no forse non era qua che era difficile dai prendila vai mettila dentro la bocca ok vai così esplodi boom ora bisogna spostare bene sto coso qua ok no vedete ah già sulla lingua devo metterlo mi sa guarda dai vai di là sulla lingua crash vai niente ok andiamo ancora da coso ah sta salvando ok seguimi crash vieni e forza seguimi fai ciò che faccio io boom ok lo so come si ruota non c'è in teoria dovrebbero spiegartelo prima cioè sennò come che vale fai scusa eh si i moti mi spiegano a saltare cioè guarda uah x due volte per fare un doppio salto ma va ma no non lo sapevo ok ma c'è la puzzola ok 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 lag 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 ok niente tutto a posto questo distruggiamole così ah ma bisogna scivolare con questi qua ancora uah è facile troppo facile ma va ok e scappa veloce non laggare non laggare per favore questo gioco è bellissimo ok attenzione a sti cosi ah guardate ah no non è qua la scena dopo e ui ah ma si segna a saltare schiacciare vabbè l'avete già visto solo che se lo fate con quello si trasportano i cosi vedi si i vermi schifosi e ho le hop e la si vede una gemma è nata a sinistra si dai dai veloce ok qua però ce n'è una mi ricordo come cavolo come cavolo si faceva già saltare e come cavolo fai scusa a salire qua ce n'è una comunque qua sopra veramente oh e dai no 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 mannaggia ok vai di qua ecco una gemma ua 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 ok un'altra tnt un'altra forse la prima vabbè io ci stavo giocando prima quindi ho detto un'altra è per questo è per questo è per questo fa cadere l'altro ponte ok siamo a un altro punto qua è facile la cosa basta fare spodere così così spodere anche le altre c'è banana no guarda non lo sapevo guarda ok attenzione qua a sto coso ok permesso sto cercando per chinarti e strisciare tutti i pericoli guardate cade bellissimo epico oh sto bene ok andiamo piano 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 qua lasciamo perdere le scatole tanto è inutile ok ah guardate questa scena peccato che non la potete sentire che fa è da dieci lunghissimi anni che faccio avanti e indietro sapete i nemici di crash che fanno sempre avanti e indietro allora lui si rifiuta adesso no non lo farò mai mai più allora tu lo colpisci bam e va a sbattere contro le nitro eh dovevi farlo mi dispiace caro amico ah già qua viene distrutto questi cosi e la prima parte del gameplay finisce qua quindi ciao 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 Grazie a tutti